Ma che fai tu? Questi qua mozzi dicono ma questo è scemo Cosa c'è? Che cosa? La storia di Giuseppe Giuseppe, 14 anni, morto dalle lanci cose di fiamme di Capitão Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Basta che mi coprite indietro Tu me lo faccio tutto, poi io non ho io Io non ho io, io non ho l'ho più ghiacchica Devo cambiare caricatore Il quadro dovevo prendere Fa muo di qua questa parte 5 secondi 5 secondi 5 5 secondi Rischio a tutti i costi Bravo, bravo, bravo Oh... Vito, girati Vito Tutti contro di me stavano, raga Porco Giuda Mi coprite indietro, il vero Mi muovo tutto qui Madonna, sta qui c'è La starata, io non ci dico più Oh la madre Quello era full team Serio Ah, che scaccia Nooo Tutti da là vengono, ok? Tutti Uè Uè Mi serve una vita No ma no Mi serve una vita No 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 Vito 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 Dammo 4 il sport Ricarico Madonna Ti fa zicla di solo lì Ti fa zicla di solo lì Checco lì No no Arma carica in fronte No sta qua sta qua Giuseppe Ti fa giro checco ti fa giro Vieni dietro vieni dietro Impedita al nemico di prendere il contenitore E il merino di pala Ragazzi Tre coltacianca se non c'è capito Tre coltacianca E' a casa ragazzi Mandiamoli a casa Questi non ho capito che devono andare a fare i funghi 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 Trovate il contenitore di biorischio I funghi I funghi Ti moce La cozza pepalla la cozzopo poi ok oppure al risultato a tempo gli spattano e cozzopo che lo vuoi il brodino mangiato il brodino il brodino e questo è uno spadino ma dai che fa mi fai una regga di sticcoli il brodino il brodino il brodino di cacca dai che con la pazienza formagini tutto il tuo si è sparato tutto caricato lo si è sparato per me io sono un'immigrata sono un po' cinese butta pesce io sopra vogliamo e meno male che la dici visto no per i venti il confronto l'arie animato non per il mondo non c'è una cosa giusto l'arie animato e se le due colpi le tirate dai droni non posso dire niente uno in bagno uno in bagno vito balla balla bellissimo ricarico bellissima che ecco balla vai raga però io ho qualcosa la voglia l'ultimo dentro nel bagno l'esplosione dentro samu no raga se proprio dei town bella 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 raga io dunque vado vado a fare il culo vado a fare il culo bella raga io ho giocato il meglio sembra rubarmi le kill state l'esplosione i cifre i cifre io vedi io ho pronto 3 balla rega balla rega io 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 vado io vado come non mai anche io penso che non vado a rega si si ma oggi sentiamo oggi giuseppe vediamo dimmi non doveva andare su fornet quanto sa me sono sono va bui e va sei c'è io vado sasso io vado e mamma Agnel Novak Ciao a tutti Chi è questo? Tutti dicono Ah, c'è tutti Oh Dio Dio Ciao Ciao Scusa minuti, non avevo sentito Vieni entras, è entrato Affrontiamo la... Allò Salute Scusa Ti fa unire da Sam Ma vuoi essere indicato? Ah no, entriamo di là Pensavo che deve essere... No, no, no andriamo da Sam No, Scusa Eh Milan Non ti fa un saluto Non ti sarai Ah Scusa io lo sento la gara tucco ciò che sta la canzone una canzone sentite meglio sono è perché stavo in cucina che stavo mangiando un pezzo di cioccolata ah quindi mi sento a farla giusto niente sono così tanto ho perso una partita con 12 kg fatta ho fatto 9 kg adesso si parla se vieni no 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 mappa di merdo questa è forse la mappa che fiori da quando ci fosse la mappa oh che ecco mi hanno appena attaccato da tutta trovate il contenitore di bioricchio ma che cosa è andato a fumare che quel fumatore professionista totti che ecco in attacco non ci sta mai 5 secondi all'inserimento c'è una domanda raggiungete il contenitore di bioricchio e difendetelo la trana patto fuori da là scendete sbagliato cazzo attivo un drone stordente con la trana sbagliato Sì, sì. Sì, sì.